Buonasera e buona domenica ben ritrovati con la nostra informazione presentate le liste nei comuni di Campobasso e Termoli va al centro-destra il primo round la coalizione al governo del paese della regione si presenta compatta in entrambe le città centro-sinistra unito nel comune capoluogo ma diviso invece a Termoli è partita la caccia al voto dei candidati da valutare il rischio astenzionismo sentiamo Pasquale Di Bello è un risultato a doppia lettura quello del centro-sinistra che emerge dalla presentazione delle liste se a Campobasso la coalizione è forte a partire dal cognome della candidata a sindaco a Termoli invece più che debole la coalizione è desolata mesi di trattative e di incontri non hanno prodotto la auspicata unità che in un primo momento con la candidatura di Gio Mileti si era paventata uno alla volta i partiti hanno fatto passi indietro rispetto all'assetto iniziale e sono ben cinque le candidature che si contrappongono a quella unica del centro-destra rappresentata da Nico Balice si contano infatti a sinistra di Balice altri quattro nomi oltre alla proposta civica di Mileti con democrazia e solidarietà voglia di Termoli e giovani per Termoli ci sono Manuela Vigilante per PD e Movimento 5 Stelle Andrea Montesanto per costruire democrazia Marcella Stumpo per la rete sinistra Termoli Bene Comune e Daniela De Caro ex 5 Stelle sostenuta da Termoli Libera il centro-destra almeno sulla carta si aggiudica quindi il primo round offrendo una proposta elettorale unitaria in entrambi i comuni quello di Campobasso e di Termoli la differenza in ogni caso la faranno soprattutto i candidati nelle liste chiamati a correre sino all'ultimo minuto utile un plotone di 356 persone a Campobasso e 309 a Termoli tutti a caccia del voto oltre a persuadere i cittadini sulla migliore scelta tra sindaci e candidati le forze in campo sono destinate ad uno scatto ulteriore ovvero convincere i cittadini arrecarsi al voto vista la dilagante e reiterata disaffezione verso gli appuntamenti elettorali sarà questa l'incognita maggiore da valutare e superare dalla quale dipenderanno anche le scelte finali meno gente vota più opaca risulta qualsiasi elezione chiunque vinca e continuiamo con la politica Enzo Maraio segretario nazionale del partito socialista italiano è stato a Campobasso per parlare di Europa pace e politiche sociali sono queste secondo Maraio le priorità le quali l'Europa del futuro dovrà guardare sentiamo di nuovo Pasquale di Betto. Tappa molisana per il segretario nazionale del partito socialista italiano Enzo Maraio candidato capolista nella circoscrizione sud per la lista Stati Uniti d'Europa un'Europa che ha bisogno di un'inversione di rotta su molti fronti dice Maraio a partire da una politica estera forte sul tema della pace. Queste elezioni costituiscono un momento decisivo per stabilire quale futuro vogliamo dare all'Europa. Noi proponiamo con gli Stati Uniti d'Europa una visione di un'integrazione spinta a livello europeo dove gli Stati in qualche modo contribuiscano a dare al nostro continente una forza politica importante che è necessaria per esportare pace, democrazia, libertà, quello che il mondo occidentale ha portato sempre come modello in giro per il mondo. Oggi più che mai con una guerra alle porte dell'Europa e con una visione alternativa in politica estera che è legata a Putin, legata alla Russia, alle oligarchie e soprattutto legata ad una visione non multiculturale della società che noi invece vogliamo costruire. Quindi Stati Uniti d'Europa per noi è la grande suggestione che è una questione storica per i socialisti, ne parlava Turate all'inizio del Novecento, oggi lo rilanciamo, lo portiamo avanti insieme ad altri partiti che insieme a noi condividono questa sfida, questa importante prospettiva. Con Europa attrazione sociale, non solo attrazione finanziaria? Assolutamente sì e questo poi il contributo che noi portiamo da socialisti europei anche a questa aggregazione agli Stati Uniti d'Europa. Abbiamo caratterizzato il nostro impegno negli ultimi anni per lanciare i grandi temi, le grandi sfide del welfare, la lotta alle diseguaglianze, il miglioramento di qualità della vita attraverso le iniziative che l'Europa ha preso. Ricordiamo che la pandemia ha registrato il più alto tasso di intervento economico importante per il nostro Paese e non soltanto per superare una stagione di grande difficoltà per i nostri territori, per i nostri cittadini e soprattutto per il Sud Italia. Insieme al segretario nazionale del PSI in conferenza stampa anche l'ex parlamentare Angelo Sollazzo e la candidata a sindaco di Campobasso per lo schieramento progressista Maria Luisa Forte. Un incontro a Fondaco della Farina a Campobasso con il giornalista del mattino Marco Esposto per parlare dei problemi del centro storico. Nell'occasione è stato presentato il suo libro Vuoto a perdere. Giovanni Di Tota. Saranno decisivi i prossimi cinque anni. Se non ci sarà un'inversione di tendenza sul fronte delle nascite, l'Italia rischia di diventare un Paese fermo. Si intitola Vuoto a perdere, il libro inchiesta scritto per Rubettino da Marco Esposito, giornalista e saggista del mattino di Napoli, che a Campobasso in occasione dell'incontro parola al centro storico della candidata a sindaca Maria Luisa Forte, ha parlato delle possibili ricette per arginare il fenomeno dello spopolamento. Il Molise e Campobasso sono territori sentinella sullo spopolamento italiano. Quello che accade qui accadrà presto ovunque, anche nelle città. Ecco perché dobbiamo capire da subito cosa sta succedendo e come si può reagire. Campobasso è una città universitaria. Nelle università italiane devono arrivare ragazzi da tutto il mondo, ragazzi e ragazze in pari misura perché è l'unico modo per ribaltare la situazione di collasso demografico. L'ondata sta per arrivare. Quando le persone nate nel 1964 andranno giustamente in pensione, cioè tra qualche anno, capiremo che non ci sono le energie per portare avanti il Paese Italia. Proprio partendo dal centro storico e dalla necessità di rivitalizzarlo si può rianimare un quartiere che, nelle intenzioni della candidata sindaca Maria Luisa Forte, deve diventare un centro di aggregazione della città. Noi nel nostro programma, intitolato Campobasso è forte, Campobasso non è debole, come dice qualcuno. È forte perché c'è condivisione e sarà ancora più forte proprio se noi punteremo a valorizzare il centro storico. Già tante iniziative sono state messe in atto, però soprattutto noi puntiamo a far sì che il centro storico sia il cuore pulsante per far tornare le persone a vivere, a lavorare, ad avere attività nel centro storico, anche con agevolazioni fiscali importanti, con il microcredito. E vogliamo anche far sì che il centro storico sia sede, luogo di eventi. Abbiamo pensato al sabato del borgo, cioè iniziative, il primo sabato di ogni mese, aprire il borgo a percorsi enogastronomici, a spettacoli, a eventi di ogni tipo. Durante il dibattito le associazioni dei cittadini che abitano la parte più antica di Campobasso hanno sottolineato l'esigenza di essere coinvolti nelle scelte, ma soprattutto la necessità di essere ascoltati. Appuntamento di Fratelli d'Italia con Arianna Meloni domani a Disernia. La responsabile nazionale della segreteria politica e sorella del capo del governo sarà in città per parlare di Europa in vista delle elezioni dell'8 e 9 giugno. Insieme a lei ci saranno i parlamentari Elisabetta Lancellotta e Costanzo Della Porta, il coordinatore regionale Filoteo Di Sandro e quello provinciale Desio Notardonato. Insieme a loro anche i deputati Francesco Filini e Paolo Trancassini. Appuntamento alle 18 al Bar Centrale del Centro Storico di Isernia. E si parlerà di rigenerazione urbana. Domani a Campobasso alle 19 all'hotel Rinascimento a promuovere il convegno e il Partito Democratico e l'approfondimento riguarderà gli esempi di buone pratiche a livello europeo, nazionale e locale da attuare per la rigenerazione urbana nel comune di Campobasso. Prenderà parte all'incontro il direttore della fondazione Riusiamo l'Italia, l'architetto Roberto Tognetti. Un convegno sul diritto internazionale penale organizzato dalla Scuola di Formazione Territoriale e della Camera Penale di Larino. Tema centrale di questo incontro, la perseguibilità dei crimini di guerra dinanzi ai tribunali internazionali. Presente all'evento il dottore Riccardo De Mutis del Tribunale Internazionale del Kosovo con sede all'AIA. Dalila Catenaro. Continuano le lezioni della Scuola di Formazione Territoriale e della Camera Penale di Larino. Al centro del convegno il diritto internazionale penale. Tema dell'incontro, la perseguibilità dei crimini di guerra dinanzi ai tribunali internazionali. Un evento che è stato possibile eseguire anche da remoto tramite webinar. Circa 70 gli iscritti tra avvocati, magistrati e docenti universitari che si sono collegati anche dall'estero. Si è parlato proprio del connubio tra il diritto penale e internazionale che sono strettamente connessi. Un tema assolutamente di attualità anche alla luce di quelle che sono le tensioni in ambito internazionale, le guerre scoppiate di recente. Un tema al quale la Camera Penale è stato sempre sensibile. Già qualche anno fa dei giovani di questa Camera Penale hanno scritto un saggio importantissimo sui rapporti giurisdizionali con autorità straniere che è stato adottato dalla Biblioteca Internazionale Giuridica Max Planck e da molte università. Oggi questo tema torna sempre con maggior prepotenza nel mondo del diritto, soprattutto alla luce delle guerre in corso. La Camera Penale di Larino ha organizzato anche delle indagini difensive a vantaggio di vittime di crimini di guerra in modo tale da poter raguagliare la Corte dell'AIA in ordine alle dichiarazioni rese da profughi che sono ospiti in Italia. La condizione per un perfetto esercizio della democrazia, direi per un corretto esercizio della democrazia, è rappresentata dall'equilibrio tra i poteri dello Stato, soprattutto dall'equilibrio tra potere esecutivo e potere giudiziario. In assenza di questo equilibrio si assiste al caos istituzionale, alla degenerazione della democrazia in dittatura. Questo è vero a livello nazionale, ma è vero soprattutto in ambito internazionale. Ma in ambito internazionale assistiamo costantemente alla prevalenza degli interessi politici, sugli interessi della giustizia, sugli interessi, alla tutela dei diritti fondamentali della persona. È un argomento molto importante, personalmente affronterò il tema dei rapporti tra il diritto internazionale penale e il diritto penale internazionale. Sembra una cacofomia, ma non è così, perché si tratta proprio di due diritti che hanno efficacia diversa. Il diritto internazionale penale ha efficacia trasnazionale, quindi è la giustizia penale internazionale che tutti conosciamo. Il diritto penale internazionale invece è il nostro diritto, quello con il quale vengono sottoposti a giurisdizione i nostri cittadini. E purtroppo nessuno di queste due istituzioni, di queste due giurisdizioni hanno un pieno funzionamento, proprio perché le principali convenzioni internazionali non sono state ratificate da quegli stati che hanno la maggiore popolazione e che nella maggior parte dei casi commettono crimini di guerra o crimini contro l'umanità. E cambiamo argomento. Menù senza glutine negli istituti comprensivi di cinque comuni molisani e varie attività per informare i cittadini sulla celiachia. La settimana nazionale dall'11 al 19 maggio, dedicata a questa malattia che colpisce l'intestino tenue, vuole attirare l'attenzione su questa infiammazione che spesso resta non diagnosticata. Sentiamo. La malattia celiaca o celiachia è una patologia che in Italia colpisce oltre l'1% della popolazione secondo i dati del Ministero della Salute. Si stima infatti che siano 600.000 le persone celiache di cui 400.000 non ancora diagnosticate. In Molise le persone che hanno ricevuto una diagnosi sono 1.121. Per diffondere una corretta informazione su questa infiammazione cronica dell'intestino tenue scatenata dall'ingestione di glutine in persone predisposte geneticamente è nata la settimana nazionale della celiachia. Ormai alla decima edizione, fino al 19 maggio, in Molise come nel resto del paese, l'associazione che si occupa di questa malattia ha organizzato una serie di attività per aumentare la consapevolezza nella popolazione di questa infiammazione che spesso resta non diagnosticata. Uno spazio importante dedicato ai più giovani e alle scuole con tutti a tavola, tutti insieme, le giornate del menù senza glutine. Iniziativa che prevede la distribuzione di un menù completamente senza glutine per tutti nelle mense delle scuole dell'infanzia e della primaria di numerosi comuni italiani. Per questa edizione in Molise hanno aderito 13 istituti comprensivi in 5 comuni, Campobasso, Isernia, Termoli, Frosolone e Miranda. L'iniziativa è l'occasione per informare studenti, famiglie e insegnanti sulla celiachia e la dieta senza glutine. La settimana nazionale è per noi un'occasione molto importante per parlare e informare quante più persone possibili, comprese le istituzioni, ha affermato Sara Mucciarone, presidente per il Molise. Dal 2012 siamo riusciti a raggiungere diversi obiettivi che hanno portato a migliorare la qualità di vita del celiaco molisano, ma c'è ancora tanto da fare. E torna l'appuntamento con la Zalea della Ricerca, iniziativa promossa dall'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro insieme ad altre associazioni di volontariato che per l'occasione ha voluto celebrare il suo quarantesimo anniversario e la festa della mamma che ricorre oggi scendendo in 3.500 piazze in tutta Italia. Anche a Termoli è stato allestito un banchetto informativo. Sentiamo Francesco Di Giacomo. Oggi domenica 12 maggio, festa della mamma, torna l'appuntamento con la Zalea della Ricerca della Fondazione AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Circa 20.000 volontari scendono in piazza per celebrare la quarantesima edizione dell'iniziativa. In 40 anni la Zalea di AIRC ha contribuito con circa 300 milioni di euro alla lotta contro il cancro. L'appuntamento di primavera, che coincide con la festa della mamma, è dedicato soprattutto ai tumori femminili e in quattro decenni ha dato i suoi frutti. Oggi infatti due donne su tre in Italia sono vive dopo cinque anni da una diagnosi di cancro. Nonostante i progressi raggiunti, l'associazione ricorda che restano delle sfide ancora aperte. I tumori dell'ovaio ad esempio sono insidiosi, e difficili da individuare precocemente. Colpiscono circa 6.000 donne in Italia ogni anno e rappresentano il 3% circa di tutte le diagnosi di patologie tumorali. Le conquiste della ricerca, spiega l'Associazione Italiana della Ricerca sul Cancro, si traducono in vite salvate e negli ultimi 40 anni in Europa sono state salvate dal cancro le vite di oltre 2 milioni di donne. Oggi in occasione della festa della mamma AIRC, insieme ad altre associazioni di volontariato come la SAI 112, scende in numerose piazze italiane per celebrare il 40esimo anniversario dalla nascita della zalea della ricerca, per promuovere la ricerca contro i tumori. Ecco avete scelto di abbinarlo anche alla festa della mamma per celebrare in toto quella che è la figura della donna. Sì, da oltre 60 anni la fondazione AIRC si occupa di finanziare e di sostenere la ricerca contro il cancro e in tutte le piazze d'Italia oggi, come stiamo facendo noi qui a Termoli, diamo una mano a quella che è la raccolta fondi per poter sostenere tutti i ricercatori in Italia che si occupano di trovare una cura o almeno cercare di trovare una cura per quello che è il male del secolo. Ecco, si ha l'impressione forse che in Italia non si è incentivata a dovere la ricerca, cioè si ha come l'impressione che si debba ancora fare un passo in avanti per promuovere la ricerca scientifica ed estenderla a livello nazionale come fosse appunto una sorta di disciplina medica quasi, ecco. Beh, di certo è un settore che si può implementare, che si deve implementare e dovrebbe essere oggetto anche della sensibilità della politica e delle istituzioni in generale. Noi nel nostro piccolo oggi siamo qui e cerchiamo di fare il possibile, poi sarà chi se ne occupa più nello specifico, ecco, con i giusti finanziamenti, con i giusti strumenti a portare avanti questo importante obiettivo. Il simbolo della donna che è associata a quella di un fiore, ecco, che sboccia poi in questo periodo in primavera, quanto è importante il volontariato in questi casi, lì dove non arrivano appunto a volte i finanziamenti da parte delle istituzioni? Allora, il volontariato penso che sia sempre un punto fondamentale e focale, vedere ecco noi due donne che oggi siamo qui, c'è la mia collega Imma che è mamma, io no, ma sono comunque a festeggiare la mia di mamma e tutte le mamme e penso che vedere comunque due donne che sono qui in una giornata splendida di sole comunque a promuovere la ricerca e a fare l'augurio a tutte le mamme sia simbolico e voglia quindi invitare tutti a fare volontariato. Gli studenti dell'Istituto Scolastico Fascitelli di Sernia sono stati i protagonisti di uno degli incontri organizzati nell'ambito del Festival della Poesia Contemporanea Fatti Viva, giunto alla seconda edizione. Barbara Fino. Ha preso il via ufficialmente a Esernia il secondo Festival di Poesia Contemporanea Fatti Viva con il patrocinio del Comune, della Proloco e della Fondazione Molise Cultura. Una festa della parola che già lo scorso anno ha entusiasmato la città e in questa seconda edizione è stata ricca di iniziative. Quest'anno gli studenti hanno avuto la possibilità di incontrare i poeti direttamente a scuola e gli appuntamenti si sono svolti tutti nell'aula magna del liceo classico Fascitelli di Sernia. Tra gli incontri più rilevanti quello con il poeta Loretto Raffanelli, scrittore, saggista ed editore italiano, autore di numerose raccolte di poesie. I confini del viso, il silenzio dei nomi, le voci del Filadelfia e il grande Torino solo per citarne alcuni. Parlare di poesia è un atto di coraggio, un atto importante insomma perché la poesia in fondo ha un ruolo preciso e decisivo nella società in cui viviamo e credo che quindi quando si può entrare nella scuola e parlare da parte dei poeti, perché poi nella scuola si parla di poesia, ma i poeti che appunto possono partecipare e raccontare la loro esperienza, raccontare il perché scrivono e il perché oggi forse è necessario come pensiamo parlare, scrivere e dire di poesia. Significativa anche la presenza di Nicola Bultrini, poeta, saggista, giornalista del tempo e l'osservatorio romano. Il futuro appartiene ai giovani ed è giusto che a loro sia offerta la possibilità dell'incontro con la letteratura e con la poesia. È molto bello che questo accada attraverso l'incontro fisico proprio con i poeti che vengono da tutta Italia, ci sono molti ospiti, ho visto il programma, è veramente bello, ricco, intenso e generoso. Poeti di tutte le generazioni, da quelli più giovani a quelli della mia generazione, a quelli grandi poeti del nostro tempo. In occasione della festa della mamma il candidato sindaco di Campobasso Aldo De Benedittis sottolinea in una nota come sia difficile oggi per una donna coniugare vita privata e aspirazioni professionali. La prossima amministrazione, prosegue il candidato del centrodestra, dovrà fare di tutto affinché Campobasso sia una città a misura di mamma. Attiveremo, spiega De Benedittis, uno sportello virtuale SOS Mamma, con lo scopo di favorire attività di supporto e informazioni utili su tutti i servizi presenti nel capoluogo di regione. Si chiama Cover Musicalis, il progetto che introduce la lingua dei segni all'interno di un contesto musicale, nato grazie alla collaborazione tra Lucia Dattoli, cantante, e Michele Buscio, traduttore nella lingua dei segni. Un progetto che permette ai non udenti di poter comprendere i testi delle canzoni attraverso i video pubblicati sulle loro pagine Facebook ed Instagram. Vediamo. Loro sono Lucia Dattoli e Michele Buscio e le loro pagine Facebook ed Instagram sono diventate un piccolo successo. La loro idea, infatti, Cover Musicalis, sta spopolando tra i non udenti e i po udenti. I due ragazzi, infatti, realizzano cover musicali e le traducono nel linguaggio dei segni, dando la possibilità a chi non può sentire la musica di comprendere i testi e farsi un'idea della musicalità della canzone. Il progetto è nato un anno fa, Lucia Dattoli, in arte è sette vite, ha realizzato e pubblicato un singolo e da lì è nata la collaborazione con Michele Buscio, traduttore in lingua dei segni. L'idea è nata con lo scopo di rendere accessibili i concerti anche non udenti, che comunque possono godere della musica come gli altri, anche se in maniera diversa, ha subito avuto un grande riscontro, come per questa interpretazione di La Noia, di Angelina Mango, che Lucia e Michele hanno realizzato con molta simpatia e humor. La scuola Francesco Iovine di Campobasso con le docenti Yolanda Dinucci e Luana Razzotti, Razzante, insieme agli alunni Chiara e Filippo, ha partecipato al Salone del Libro di Torino. L'incontro, che ha visto protagonista la scuola, ha avuto come tema una biblioteca in ogni scuola per immaginare il futuro. Docenti e alunni hanno raccontato la loro esperienza di lettura del volume scritto da Simonetta Tassinari, SOS Filosofia, le risposte dei filosofi ai ragazzi per affrontare le emergenze della vita. Chiara e Filippo hanno poi sviluppato il tema progresso e coscienza cosmica. Ed ora andiamo ad Isernia, dove riapre la Galleria Spazio Arte Petrecca, in una nuova location pronta ad ospitare artisti emergenti, ma anche di fama internazionale. Sentiamo. Alle soglie dell'imminente stagione estiva riapre, tra i festeggiamenti, la Galleria Spazio Arte Petrecca nella nuova sede di Isernia, all'interno della dimora storica Palazzo Petrecca dell'Ellis, in Corso Marcelli. La Galleria, attiva dal 2015 nel cuore del Centro Storico della Città, rappresenta uno spazio espositivo dedicato ad artisti emergenti e quotati. In questi anni si sono avvicendati artisti italiani ed internazionali che hanno dato vita ad eventi espositivi di rilievo, richiamando l'attenzione di importanti critici d'arte nazionali e delle riviste specializzate. Avere allocato questa galleria, che prima era già aperta, però era una parte più a nord, avendola spostata dal di sotto della dimora storica, vuole avere proprio questa finalità, quella di cercare di allungare un po' il baricentro della vita isernina, anche offrendo una nuova possibilità di incontro. Si faranno delle visite nel Palazzo dell'Ellis Petrecca, le mostre amplieranno ai visitatori la conoscenza, la comunicazione sull'arte, ospiteremo artisti nazionali e internazionali, come abbiamo sempre fatto. Questo è il nono anno, nel 2024, di apertura e di continuità e gli artisti ne saranno veramente tanti. La prima, per esempio, sarà Elena Manzana nel mese di giugno, seguiranno poi altri artisti. In concomitanza con l'apertura della galleria, la prima mostra della stagione con le opere dell'artista molisano Claudio Migliarino, in arte calido. Volumi, di ombre, di luci che si adattano benissimo agli ambienti espositivi e sono, la sentano, quasi oggetti di design. Le mie opere invece si adeguano all'ambiente, fanno parte dell'ambiente. Lui cerca di realizzare un'opera come se fosse non più un oggetto, ma un qualcosa che va oltre, ovvero un'opera design, un'opera da ornamento. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito a tutti voi. Una buona serata. Grazie per averci seguito a tutti voi.